Prendiamo un SUV compatto dal design accattivante, gli trapiantiamo il cuore ultrasportivo della Mercedes classe A 45 MG e il gioco è fatto. Risultato scontato, un'alchimia perfetta di stile, sportività e versatilità che va sotto il nome di GLA 45 MG. Vi stuzzica la voglia, a noi da morire, il gioiellino 4 cilindri 2 litri turbo da 360 CV, abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, targato AMG, trasforma la GLA in una sorta di classe A più alta da terra e cattivissima. Un vero divertimento da guidare, basta pensare che copre lo scatto da 0 a 100 in appena 4,8 secondi, moto, roba da auto sportiva, che però ha il suo rovescio della medaglia ogni volta che si entra dal benzinaio, il consumo medio dichiarato è di 7,5 litri ogni 100 km, ma è un dato che certo non dovrebbe impensierire chi sceglie una supercar. Nonostante una spinta in basso notevole e un allungo che sembra non finire mai, il motore risulta molto elastico e in grado di essere gestito al meglio sia trotterellando nel traffico che esagerando nei tornanti di montagna. Oltretutto la GLA, che passa sotto le amorevoli cure AMG, cambia in tutto, dalle sospensioni, controlli elettronici, aerodinamica, impianto frenante, sistema integrale quattromatic e servosterzo, per non parlare del look, che ha un'immagine più sportiva con un frontale inedito, quattro terminali di scarico cromati. Cambiano anche cerchi e pneumatici, essi possono avere dei kit sportivi ad hoc, con elementi in fibra di carbonio e alettone posteriore.